Cagliaritani? Partite così? Partono così cagliaritani? Va bene, allora ragazzi diamo il benvenuto intanto virtuale, poi li vedremo sul palco promesso al complesso strumentale Cagliari! Tra i diversi strumenti della musica popolare, quello che noi vi presentiamo sono le launedas, uno strumento molto al calco dell'area mediterranea, risalente a circa 1800 anni avanti Cristo, che accompagna, come detto, la posizione di Santifisio. Ehi, gommai, è passato su santo, è passato su antefisi? No, no, ascutta, 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 c'è San Rosario, e ci punti launedas? Laudau sempre siada, su nominite Gesù e del Maria In cielo, in cielo, in terra, sempre bruso e bruso, su nominite Gesù e del Maria Santa Maria, bella, bella e grazia, su signore scundemus, benedictas estui, tradotto isbentinas e benedictes su brucris intragnas tuas a Gesù. Santa Maria, mamma di Dio, pregai, bella e grazia, su signore scundemus, benedictas estui, tradotto isbentinas e benedictas estui, tradotto isbentinas e benedictas estui, tradotto isbentinas e benedictas estui. Benedictas estui, tradotto isbentinas, tradotto isbentinas e benedictas estui. Grazie! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti